Meghan Markle e il principe Harry hanno cambiato tattica con la nascita di Lilibet Diana. Dopo aver rifiutato di rilasciare qualsiasi informazione sulla nascita del figlio Archie Harrison nel 2019, l'annuncio di nascita di Meghan Markle e del principe Harry per la loro figlia appena nata Lilibet Diana è una completa contraddizione rispetto alla segretezza che circonda la nascita di Archie nel maggio 2019. L'esperto reale Chris Schipp ha notato che la coppia ha insistito sulla privacy per l'arrivo di Archie, ma questo tempo, hanno detto alla stampa sempre su e giù in quale ospedale è nata Lili. Meghan e Harry hanno dato il benvenuto alla loro bambina venerdì 4 giugno in California. L'editore reale di ITV Chris Schipp ha detto. Ricordi che Harry e Meghan non volevano dire in quale ospedale è nato il bambino a Londra e abbiamo avuto un enorme avanti e indietro con i portavoce del palazzo che dicevano no, sono informazioni private. Perché e poi ci hanno detto chiaramente in quale ospedale è nata Lili. Ha continuato. È alle loro condizioni. Ma è una completa contraddizione con ciò che hanno fatto prima. Che era dirci che non vogliamo dirti in quale ospedale è nato Archie perché sono informazioni private. Punto punto. E non ce l'hanno mai detto, stiamo ancora cercando di indovinare quale fosse. Archie Harrison è nato mentre il duca e la duchessa del Sussex erano ancora membri attivi della famiglia reale. Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione il 6 maggio 2019 in cui affermava che Meghan aveva partorito alle 5.26 e che suo marito era stato presente al parto. Un avviso incorniciato della nascita è stato posto sul cavalletto cerimoniale dietro le porte di Buckingham Palace. Il duca e la duchessa hanno rifiutato di fornire ulteriori informazioni sulla nascita, anche se i portavoce del palazzo hanno confermato che il bambino pesava 7 libre e 3 once. La coppia inoltre non ha partecipato a un photocall al di fuori dell'Ala Lindo, cosa che la duchessa di Cambridge e la principessa Diana avevano fatto in precedenza. Invece, la coppia ha scelto di aspettare due giorni prima di fare un photocall nella ST George Hall del castello di Windsor, per mostrare al mondo il loro primogenito.